Allora io intanto credo sia anche giusto presentare finalmente tutti gli ospiti che abbiamo qui nel nostro studio mentre sta per arrivare, mentre sta per arrivare, attenzione, lui, con lui faremo un viaggio straordinario, andremo in oriente Ebbene sì, prepariamo le valigie che andiamo in oriente con questa danza orientale, vuole raggiungere qualcosa? No, no, volevo presentare i nostri ospiti che abbiamo qui nel nostro parterre Ok, perfetto Allora abbiamo detto Gianni Dauli, la presenteremo meglio tra qualche istante E lo zio di Giorgia, la famosa cantante, ha iniziato a cantare con lui nella sua orchestra E con lui hanno cantato anche Mia Martini, ha iniziato a cantare con lui Mia Martini, Tiziana Rivale e tanti altri ancora Ma saremo più precisi tra qualche istante Bene, e poi abbiamo anche il suo manager Possiamo dare il microfono e anche il suo manager Con Gianni sono trent'anni e lavoriamo insieme Trent'anni! Avete tante cose da raccontare sicuramente Anche se tra poco uscirà un libro di cui parleremo meglio tra qualche... Poi qui c'ho anche Tony Riggi che è un altro mio... Che presenteremo tra qualche istante